Una bella iniziativa di solidarietà di un noto supermercato di Giuliano, un atto di benevolenza per chi è in difficoltà a spiegarci tutto e il titolare dell'esercizio commerciale. La sera quando chiudiamo il negozio mettiamo fuori la cesta del pane con il pane non venduto della giornata perché penso che sia una cosa buona, chi non può permetterselo, noi comunque lo buttiamo quindi invece di buttarlo offriamo alle persone che hanno, che può servire alla fine. Come mai è venuta questa idea? Perché spesso capita di buttarlo e piange un po' il cuore a pensare che si butta il pane, essendo un dono di Dio diciamo è un peccato proprio e allora ho preferito fare questa cosa. A volte si presenta qualcuno che ha necessità e bisogno? Spesso, purtroppo capita spesso, sempre più spesso e per via di questo pure ci ho pensato che succede molto spesso che le persone hanno bisogno proprio di roba da mangiare, nemmeno di soldi, ma chiedono proprio cosa da mangiare, tipo olio, qualsiasi cosa a volte chiedono e allora per questo ho deciso di farlo. Infatti poi non soltanto il pane regalereste? Sì, metterò anche quando capitano prodotti a breve scadenza che ho quasi scaduti, in effetti con un giorno di scadenza, che vediamo sugli scaffali che non sono più idoni alla vendita, invece di buttarli alla fine li metterò in questa cesta. A chiusura di supermercato? Sì, a chiusura, a chiusura. Quindi a che ora? A 8 e 30, 20 e 30 della sera.